Un vero e proprio fallimento. La vicenda dei lavoratori ad Elchi di Tricase rappresenta un capitolo triste per tutto il Salento e il simbolo di un territorio messo in ginocchio, incapace di rialzarsi e di riprendere il cammino. La vicenda degli oltre 700 lavoratori che ha interessato l'opinione pubblica a più riprese sembra ormai destinata all'epilogo e lo spettro del licenziamento. Oggi non è solo paura. In fondo gli operai se l'aspettavano. Dopo tante lotte, manifestazioni di protesta, di senso espresso in ogni modo, in ogni sede, quel che resta è solo l'amarezza oltre la rabbia e il progressivo distacco nei confronti delle istituzioni incapaci di garantire un'alternativa a persone che oggi si trovano allo sbando. Alcuni di loro hanno voltato pagina e cercato altrove un lavoro, precario o no. Altri hanno vissuto nell'attesa e di quei pochi soldi che la Cassa Integrazione concedeva loro ma nemmeno riscuotere l'indenità dall'Inps è stata una passeggiata. Difficoltà su difficoltà. Sono stanchi di sentir parlare i sindaci, i parlamentari e i sindacati. Sembra uno scena ormai ripetuta all'infinito. E nel frattempo il nulla assoluto, un pugno di mosche in mano e licenziamento collettivo da parte delle aziende del gruppo Adelchi. Del calzaturificio del Sud Salento che per anni ha visto il lavoro di maestranze ormai sprecate nel nulla restano solo macerie. Non fa più effetto sapere che il presidente della provincia Antonio Gabellone scrive al ministro dello sviluppo economico Paolo Romani e al ministro Raffaele Fitto non creano aspettative le parole dei sindacati e i prossimi tavoli che come ormai di routine si faranno nei palazzi. Intanto la solidarietà lavoratori Adelchi arriva da altri lavoratori anch'essi da anni in vertenza e in attesa di risposte che non arrivano. Sono gli ex collaudatori della pista di Nardò che si dichiarano vicini perché anche loro sono nelle stesse condizioni e per questo credono che sia arrivato il momento di non trattare ma di fare guerra. Chiedono alle istituzioni che vengano revocati i finanziamenti a tutte quelle aziende che hanno percepito denaro pubblico miliardi di euro perché nonostante le promesse di sviluppo sul territorio hanno chiuso i cancelli delle loro aziende per riaprirli in altre nazioni dove la mano d'opera costa molto di meno. E a proposito di istituzioni, oggi dalla Regione Puglia interviene la vicepresidente Loredana Capone. La minaccia di licenziamento di oltre 700 lavoratori da parte del gruppo Adelchi rischia di diventare sempre più inquietante, sottolinea. Per questo sento anzitutto il dovere di chiedere un atto di responsabilità importante al signor Sergio Adelchi un atto che scongiuri il licenziamento e che salvaguardi la permanenza del gruppo Adelchi sul territorio o piuttosto impegni l'intero gruppo a cercare soluzioni alternative per i lavoratori. Secondo la Capone si tratta di un atto di responsabilità economica e sociale indispensabile per un gruppo che deve fare i conti con il fardello dei 700 lavoratori in crisi. Fondamentale è anche il ruolo del governo, quella di Adelchi è una crisi di livello nazionale con 700 lavoratori coinvolti, né più né meno di Termini Imerese o di Irisbus. Ecco perché il Ministero dello Sviluppo Economico deve occuparsi senza indugio dell'avvertenza e non può farlo solo interpretando passivamente e burocraticamente l'accordo di programma del 2007. Grazie Grazie Grazie